Cari amici, ho ricevuto da dottor Gaetano Masciullo alcuni libri pregevoli, tra cui Massoneria Vaticana di padre Charles Theodore Moore, libro interessantissimo che, diciamo, nonostante non intercorrano esattamente i rapporti di liaci fra il sottoscritto e fede e cultura, io ho voluto comunque citare ampiamente sul libro perché è una pubblicazione importante, non contano le simpatie o le antipatie personali, mi riferisco al professor Zenone perché con il dottor Masciullo ho un ottimo rapporto, ma se è una pubblicazione interessante deve essere messa in luce e così è avvenuto per questo libro di padre Charles Theodore Moore che fu l'assistente di Monsignor Eduard Gagnon, incaricato da Paolo VI di produrre un'inchiesta sulla massoneria ecclesiastica. Come sapete Paolo VI non poteva mettervi mano perché si sentiva ormai stanco, malato, eccetera, morì nel 78, fu eletto subito dopo Giovanni Paolo I che, come sapete, morì anche lui dopo 33 giorni. E poi c'è la questione di Giovanni Paolo II. Allora, ci sono due elementi da discutere di questo intervento del dottor Masciullo sul canale YouTube di fede e cultura. Dice, ci è stato segnalato che di recente su articoli di un noto blog di Libero, il nostro Libero di recente pubblicazione di Massoneria Vaticana a firma di padre Charles Moore riguardante l'importante richiesta Gagnon sembra essere stato utilizzato per sostenere una tesi che in realtà non trova conferma nella testimonianza che abbiamo pubblicato per la prima volta in italiano. Ora, non è che è stato utilizzato in modo manipolatorio, eccetera. Io nel mio articolo di Libero ho ampiamente citato in modo corretto il libro di Don Charles Moore e l'ho corredato di altri documenti e ho utilizzato le notizie del libro di padre Moore per dare seguito alla mia inchiesta. Non ho mai detto che nel libro di padre Moore si dice quello che sto dicendo io, che sto dicendo un'altra cosa. In particolare, prosegue Masciullo, si sostiene che nel 1983 Giovanni Paolo II avrebbe ricevuto il dossier Gagnon e incaricato immediatamente Ratzinger a redigere il codice di diritto canonico per creare un piano anti-usurpazione. Tale tesi non è assolutamente sostenuta nel libro di padre Moore, non è sostenibile per mezzo di esso. Allora, che tale tesi non sia sostenuta nel libro di padre Moore è pacifico, perché padre Moore non si è occupato dell'inchiesta di cui mi sono occupato io. Quindi io non ho mai sostenuto che padre Moore dica una cosa del genere. La dico io, la dico io a fronte di quattro anni di inchiesta continuativa. Ora, dice che tale tesi non è sostenibile, nemmeno, per mezzo di esso, dal momento che 1. Monsignor Gagnon consegnò il dossier a Giovanni Paolo II il 6 febbraio 1979, ma il papa non prese seriamente quanto il vescovo franco-canadese gli riferì, tanto da convincerlo a partire per l'America meridionale. Si consideri che questo era il terzo tentativo di consegna andato a vuoto. Per approfondire vedasi pagina 203 del libro in questione. Sì, perché appunto era il terzo tentativo e il primo di Giovanni Paolo II, il primo tentativo con Paolo VI fallito perché Paolo VI muore, il secondo con Papa Luciani fallito perché Papa Luciani muore, il terzo dice lo storico De Mattei nella introduzione, nella prefazione di questo volume, leggo testualmente, in uno dei numerosi colloqui che ebbi con lui, Don Mario Marini mi disse che quando Monsignor Gagnon consegnò a Giovanni Paolo II i risultati della sua inchiesta in Vaticano commise un errore che gli fu fatale. Descrivendo la drammatica situazione della Chiesa non riuscì a trattenere le lacrime, confermando così l'immagine che la segreteria di Stato aveva dato di lui al Papa, un uomo in crisi, depresso, squilibrato, in ultima analisi, inaffidabile. Giovanni Paolo II lo ascoltò ma non intervenne. Ora, secondo lo storico De Mattei che riferisce questo episodio, l'errore fatale sarebbe stato quello di mettersi a piangere di fronte al Papa, confermando l'immagine che aveva dato di lui la segreteria di Stato, un uomo in crisi, depresso, squilibrato, in ultima analisi, inaffidabile. Quindi lo storico De Mattei dice che Giovanni Paolo II non intervenne, lo ascoltò ma non intervenne, ma questo errore fatale derivò dal fatto che Giovanni Paolo II aveva avuto questa cattiva percezione del Monsignor Gagnon come di un uomo in crisi, depresso, squilibrato, inaffidabile. Allora, quanto afferma lo storico De Mattei circa l'errore fatale di Gagnon che fece in modo che Giovanni Paolo II non intervenne, viene smentito nel punto 2 di Gaetano Masciullo, perché lo stesso ricorda che nel 1981 Giovanni Paolo II, a seguito dell'attentato subito, convocava ad urgenza Monsignor Gagnon, al quale propose la berretta cardinalizia, ma questi rifiutava fino a che il numero uno, a detta dello stesso Gagnon, ossia il cardinale Massone Baggio, non fosse rimosso da capo per la congregazione dei Vescovi. Tuttavia bisognerà aspettare solo l'84 per vedere realizzato questo obiettivo e Gagnon diverrà cardinale nell'85. Ora, la mia obiezione alla considerazione del De Mattei era, ma se fu un errore fatale mettersi a piangere, dare dare l'immagine di un uomo in crisi, depresso, squilibrato, inaffidabile, tanto che Giovanni Paolo II non intervenne e chi osa Aldo Maria Valli fu forse per questo motivo che preso da altre urgenze il pontefice polacco non ritene di esaminare il dossier, perché nell'81 Giovanni Paolo II offre la berretta cardinalizia a Gagnon? Se era un uomo depresso, inaffidabile, che aveva tra l'altro lavorato a un'inchiesta così screditante su importantissimi prelati come quelli citati? Capite che non sta in piedi quello che dice De Mattei, no? L'errore fatale. Che vuol dire l'errore fatale? Monsignor Gagnon non è riuscito a farsi prendere in considerazione a Giovanni Paolo II, il quale sì, vabbè, ha preso sto dossier, ma poi è rimasto tutto lettera morta perché evidentemente lui aveva dato una cattiva immagine di sé. Terzo punto di Gaetano Marsciullo. Non ci pare probabile in alcun modo che Giovanni Paolo II abbia incaricato Ratzinger nel 1983 a mettere mano sul codice di diritto canonico. Dal momento che fu tra il 72 e il 78 che i Vescovi e i canonisti delle università pontifice formularono gli schemi per il nuovo codice. Nell'81 il Papa ricevette la prima versione del testo definitivo, quindi fu riesaminato alcuni canonisti di sua fiducia e il 25 gennaio 83 fu finalmente promulgato il nuovo codice di diritto canonico dopo un lavoro ventennale di oltre 300 esperti di 31 nazionalità. Segnaliamo che padre Charles Merle ha letto questa nuova nota e sottoscrive quanto qui precisiamo. Allora io mi domando, ma uno che li scrive a fare gli articoli se poi non vengono letti? Cioè io sul libero ho citato le parole di Benedetto XVI tratte da Ultime conversazioni del 2016 e però se non le leggete non si va avanti, scusate, non capisco come si possa procedere a una confutazione di qualcosa che dice un interlocutore senza leggere quello che scrive l'interlocutore. Allora leggiamo da Ultime conversazioni la seguente paginetta. Chiede il giornalista Sevald, nella via Crucis del 2005 lei parlò della sporcizia presente nella chiesa, si riferiva ai casi di abuso? C'erano anche quelli ma ho pensato a tante cose. Un cardinale della congregazione per la dottrina della fede viene a conoscenza di così tanti particolari, perché tutti gli scandali arrivano lì, che bisogna possedere una grande forza d'animo per sopportare. Che nella chiesa ci sia della sporcizia è cosa nota, ma quello che deve digerire il capo della congregazione per la fede va molto oltre, quindi che vuol dire? Che ci sono due sporcizie, una nota, cioè quella degli abusi, e una ancora peggiore. E cosa ci può essere di peggiore di un abuso? L'omicidio del Papa, il sovvertimento della chiesa, la conquista dall'interno del papato? Molti pensano che Giovanni Paolo II non abbia affrontato il problema in modo sufficientemente aggressivo, tipo il De Mattei che dice, ma Giovanni Paolo II lo ascoltò e non intervenne. E qui arriviamo all'obiezione di Masciullo, che è completamente smentita da quello che scrive Ratzinger. Dipende sempre dalle informazioni che si hanno. Quando fu sufficientemente informato e vide cosa stava accadendo, fu assolutamente convinto che bisognava affrontare la situazione con Polso. La realtà è che sulla base del diritto canonico vigente non era possibile combinare grosse punizioni. Io dissi che avevamo bisogno di emendamenti. Il Papa mi concesse immediatamente mano libera. Abbiamo creato nuove norme e strutture giuridiche. Solo così si poteva affrontare la questione. Ripeto, abbiamo creato nuove norme e strutture giuridiche. Il Papa mi concesse immediatamente mano libera. Quindi quello che dice Masciullo è smentito da quello che dichiara Benedetto XVI. Non ci pare probabile che Giovanni Paolo II abbia incaricato Ratzinger nell'83. Ma scusate, lo dice lui stesso. L'ultima edizione del diritto canonico è dell'83. Tra l'altro è comprovato che ci fu la mano di Ratzinger perché lui intervenne producendo un emendamento alla legislazione che puniva il crimine dell'abuso crimen sollicitazionis, mi pare che si chiami, rendendo il diritto canonico capace di ridurre allo stato laicale i preti che si fossero macchiati di questi odiosi crimini. Quindi è provato che Ratzinger riceve mandato da Giovanni Paolo II di mettere mano al codice di diritto canonico, è provato che lo fa ed è assolutamente provato che il canone 332,2 che prende il posto del canone 221 dell'edizione precedente nel 1917, vede per la prima volta irrompere la necessità di rinunciare al munus petrino, si continga a tutto l'umanus pontifex muneri suo rinunziet. Quindi quello che io affermo sulla base del libro di Padre Murr è che Giovanni Paolo II fu sufficientemente informato proprio dal dossier di Gagnon che lì per lì sembrò che lui non avesse fatto nulla, tant'è che molti, tra cui il De Mattei, pensano che Giovanni Paolo II non sia mai intervenuto per fare qualcosa contro la massoneria ecclesiastica e invece io vi ho dimostrato che lui dà immediatamente mano libera al cardinale Ratzinger per creare nuove norme e strutture giuridiche. Dal punto di vista degli abusi introduce quel canone, quella clausola che permette di spretare i preti pedofili e dal punto di vista di quell'altra sporcizia che ovviamente è la massoneria ecclesiastica di cui Giovanni Paolo II era stato sufficientemente informato, Ratzinger introduce la necessità di rinunciare al munus. Nel 1996 conclude queste norme e strutture giuridiche per combinare grosse punizioni con la Universi Dominici Gregis dove si dice che se la rinuncia del pontefice non è avvenuta a norma del canone 332,2 con la rinuncia al munus petrino l'elezione è nulla invalida, clac, si chiude il congegno anti-usurpazione. Quindi il libro di padre Murr è assolutamente utilissimo, fondamentale, ma lo stesso padre Murr non sapeva che Giovanni Paolo II aveva dato in carico a Ratzinger di produrre questi emendamenti emendamenti nel diritto canonico, di creare queste nuove norme e strutture giuridiche vedasi Universi Dominici Gregis, che costituiscono un perfetto congegno anti-usurpazione. Ora qualcuno mi dirà, ma hai provato a proporre a padre Murr queste tue considerazioni, l'inchiesta eccetera, signore mi dichiaro già vinto in partenza, mi arrendo subito, perché non si riesce a far capire alle persone che studiano queste cose in modo diretto la questione della sede impedita. Diciamo che questo argomento è quasi totalmente precluso alla mentalità anglosassone, che sembra, lo dico con rispetto, però la mente anglosassone non è fatta per leggere, diciamo, una lettura B sotto una lettura A. Me lo diceva Frabugnolo, che è americano, quindi non è una mia considerazione. Quindi è difficilissimo convincere un ecclesiastico di questa cosa, difficilissimo convincere i tradizionalisti, peraltro si tratterebbe di rivelare a un sacerdote che ha vissuto in prima persona questi eventi qualcosa di cui lui non era consapevole. Quindi è una specie di tredicesima fatica di Ercole, non me lo chiedete nemmeno perché non ho alcuna speranza di poter convincere padre Murr, perché ormai nel mondo cattolico c'è un tale dogmatismo, un tale arroccamento sulle proprie posizioni, sono tutti dei padre eterni, nessuno è disposto a mettersi in relazione con i fatti reali, nessuno è disposto a rischiare sanzioni ecclesiastiche, tranne otto preti su 31.000 almeno in Italia, nessuno si vuole mettere contro Bergoglio, nessuno vuole correggere o smentire quello che ha già pubblicato, nessuno vuole rendere onore al Papa Benedetto XVI. Quindi io non so se il dottor Masciullo vorrà sottoporre i tre documentari a padre Charles Moore, ma non ho alcuna speranza di convincere nessuno, perché adesso basta, veramente mi sono stancato di dovermi confrontare con persone che non leggono neanche quello che scrivo. Non mi riferisco al dottor Masciullo, verso il quale provo simpatia, però sono veramente esacerbato dal fatto che non ci sia la possibilità di un dibattito scientifico alla luce del logos e dell'onestà intellettuale. Quindi concludendo, ripeto, il libro di Charles Muir è utilissimo, fondamentale, manca un tassello, questo tassello ce lo dà Ratzinger in ultime conversazioni. Quindi Giovanni Paolo II è sembrato che non avesse messo nulla in pratica per far fuori la massoneria ecclesiastica, giustamente ha fatto benissimo a non dirlo nessuno, l'ha fatto solo con il cardinale Ratzinger, probabilmente lo sapevano solo loro due. Questo congegno è costruito in modo perfetto, l'elezione di Bergoglio è nulla perché è mancata la rinuncia al munus norma del cano 332,2, più di così che cosa volete di più? Spero che il dottor Masciullo possa rispondere a questo mio podcast e nel frattempo vi saluto e vi ringrazio per il vostro sostegno. Un caro saluto a tutti.